GoBimbo è il servizio che ti fa scoprire tutte le attività per bambini disponibili intorno a te. Sei una mamma, un papà, un nonno, una tata? Cerchi qualcosa di nuovo e di bello da fare oggi o nei prossimi giorni con il tuo bambino? Scarica l'applicazione GoBimbo sul tuo telefono o vai sul sito. O facile, inserisci l'età del tuo bambino e vai ai risultati. GoBimbo ti mostrerà tutto ciò che potete fare nei paraggi adatto all'età che hai inserito. Vuoi vedere cosa c'è in giro nel weekend? Puoi cercare quello che vuoi, dove vuoi e quando vuoi. Basta modificare il luogo, data, ora. Puoi usare i filtri per raffinare la tua ricerca. Ad esempio puoi cercare solo alcune categorie di attività, oppure solo gli eventi gratuiti o solo le attività al coperto in caso di pioggia. Puoi salvare i posti che ti piacciono di più tra i preferiti e crearti un'agenda personale con le attività che vuoi tu. Con GoBimbo ogni giorno è una nuova avventura. GoBimbo è free time per bambini felici.